Il ponte che è lungo l'asse dell'Adriatica permette di attraversare il Chienti. Sono nel progetto della ciclovia adriatica i punti più importanti e più complessi da affrontare. Presentiamo il progetto di un attraversamento che è nello stesso tempo un ponte di collegamento fra due comunità, quelle di Civitanova e di Porto Sant'Elpidio, ma anche qualcosa di molto più grande perché è un passaggio obbligatorio per la grande ciclovia dell'Adriatica che partirà dal Veneto e arriverà fino alla Puglia. La Regione Marche è il capofilia di questo progetto. Nella nostra regione già numerosi sono gli interventi realizzati dai comuni che verranno connessi attraverso gli investimenti della Regione dando quindi una continuità, una prospettiva nazionale alle ciclabili che storicamente erano in ambito cittadino. È un progetto che ha voluto allora il Ministro del Rio, al quale noi abbiamo aderito e lo stiamo portando avanti con determinazioni, con investimenti importanti come questi due milioni che realizzeranno certamente un ponte utile ma anche bello sotto profilo estetico, un segno nel territorio, un landmark come si dice in gergo architettonico di grande valore che segnalerà a tutti quanti proprio il legame fra le marche, la bicicletta e i collegamenti. Lungo la Valle dei Chienti poi proseguirà una ciclovia a pettine secondo lo schema delle ciclovie delle marche perché noi vogliamo che questo sistema sia goduto dall'intero territorio, dalla parte interna così come quella costiera in modo che la bicicletta possa essere un mezzo che unisce tutta la regione e permetterà a tutti quanti di utilizzarne sia in termini quotidiani per gli spostamenti ma ancora in modo più strategico per il turismo.